E' così? Non è mai scappato nessuno? Nessuno ce l'ha mai fatta. Qui hanno cercato tutti un sistema, ma non esiste. Vedi quelle guardie? Nelle altre carceri ce n'è una per ogni sette detenuti. Qui invece ce n'è una per ogni tre detenuti. Se cagli di notte invece che di mattina vogliono sapere perché. Ma ammettiamo che tu ci provi lo stesso. Prima però devi uscire dalla cella. Quest'isola è tutta una roccia. Vedi quell'acqua? C'è più di un miglio da fare a nuoto per arrivare a terra. E con le correnti che ci sono è come se fossero dieci. E l'acqua è così fredda che le braccia si intorpidirebbero nel giro di pochi minuti. E anche se sai nuotare benissimo, beh, non avresti assolutamente il tempo di farcela. Qua ti contano dodici volte ogni giorno che ha fatto il Dio. A un certo punto ti convinci che è solo una conta questo letamaio. Una conta che dura una vita intera. Noi contiamo le ore. I mastini contano noi. E i re dei mastini contano quelli che contano. Dentro! Tutti dentro! Tutti dentro! No! Grazie a tutti.